Ed ora come ogni mattina andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali, oggi ne dico, la partiamo come sempre dalla Nuova del Sud, apertura dedicata alla chiusura della campagna elettorale in vista del voto di domani, ultimi fuochi elettorali a Matera, ieri sera gli appelli dei candidati sindaco, domani la parola passa agli elettori, lo scontro sulla Fondazione 2019 infiamma gli animi prima del silenzio, nel mirino la nomina direttore di Verri. E poi torniamo sulla visita del Premier nello stabilimento lucano della FCA, ottima la visita di Renzi a Melfi, il cane elogia lo stabilimento lucano. Poi la bufera su Accodotto Lucano con il rinvio a giudizio per le assunzioni facili, le giri del Movimento 5 Stelle, chiarezza su consulenze e forniture, ora intervenga la Corte dei Conti. Messi in pagamento gli assegni per i circa 3 mila lavoratori lucani in mobilità in deroga. Poi taglio medio dedicato alla cronaca con l'operazione nel Metapontino, droga, 4 arresti nel Metapontino, maxi operazione della finanza che ha coinvolto anche Puglia e Toscana. 10 le misure cautelari in manette, anche un esponente del clan Scarcia. E poi sempre la cronaca giudiziaria, stalking, confermata la condanna a due anni e otto mesi per un 47enne potentino che perseguitava la ex compagna. Unibus, le iscrizioni sono in aumento del 4,2%, Ateneo Lucano in controtendenza rispetto alle altre regioni italiane e 8 laureati su 10 trovano lavoro. E infine spazio anche allo sport, Lega Pro, De Franco Matera è pronta per regalarsi la finale, ricordiamo domani in programma al 21 settembre la sfida di ritorno della semifinale playoff contro il Como. E poi Potenza, piccole mosse in Serie D, Notari Stefani potrebbe trovare amici a Potenza. Sempre in Serie D, Bomber Serritella parla della sua stagione a Picerno, come sempre vi ricordo che le previsioni del tempo sono curate da Gaetano Brindisi sulla Nuova del Sud, e poi Torneo delle Regioni FIGC partita all'avventura dei 5 team Lucani per Milano 2015, il Torneo delle Regioni che scatta domani. Ci spostiamo alla Gazzetta di Basilicata, la parata dei turchi, entusiasma a Potenza con la folla in strada. Oggi si celebrano i riti religiosi, festa patronale, ultime battute delle celebrazioni per San Gerardo la porta. La sfilata si conferma, elemento di maggior richiamo per residenti e non in un calendario che si è allungato ad una settimana. E poi lo spaccio di stupefacenti, spaccio tra Ionio e Senisese, 5 arresti. Anche qui spazio al voto di domani, la sfida dei 6 candidati sindaco alla conquista di Matera. Domani urne aperte per rinnovare sindaco e consiglio nella Capitale Europea della Cultura 2019. Scontro all'ultimo voto fra Duce, De Ruggeri, Locatelli, Vespe e Materdomeni e Cappiello. Potenza, il Comune si salva, questa la settimana che sarà decisiva. E poi a Lago Pesolo il mondo di Federico II eccelle per premio, allora lo chiudono. Museo narrante a rischio per un contenzioso burocratico. E poi via gli studi per fare il bianco a tempo rossa, ambiente prima del petrolio. Chiudiamo con il Quadriano del Sud, qui apertura dedicata alla cronaca giudiziaria, ma quale superclanno? I basilischi non sono mafiosi. Quinta mafia, i dubbi dei giudici della Suprema Corte, solo un proposito, non c'è stata proiezione all'esterno. Stroncata anche la tesi sul carattere ereditario della mafiosità, intanto il boss di Policoro, Salvatore Scarcia, sfugge all'arresto e caccia. I pusher del metà pontino, blitz antidroga tra Policoro, Scanzano, Nova Siri e Senise reclutavano anche minori. In quattro ai domiciliari, obbligo di dimora per altri cinque scoperti, corrieri e fornitori. La richiesta del Movimento 5 Stelle, la Corte dei Conti intervenga su Acquedotto Lucano, invece all'Unibas l'Ateneo contesta i dati sugli iscritti da noi, sono in aumento. Nella falsa apertura, spazio e festeggiamenti in onore di San Gerardo a Potenza, la parata della sobrietà con gli ambulanti fuori dal centro, l'entusiasmo dei figuranti e il sindaco nascosto tra la folla. A Matera ripartono i cantieri delle vie Bluma, per ora solo nel Materano. A Maratea la protesta dei 26 dipendenti della casa di cura che rischia la chiusura. Potenza, senza l'edilizia, l'economia non si rimette in moto. E poi una buona notizia, mobilità inderoga, arrivano i pagamenti. E poi la politica, domenica al voto, a fondi, appelli a Matera, la fondazione finisce nel mirino. E poi una curiosità, c'è chi si diverte a collezionare tutti i santini. Poi la cultura, un lucano a Cannes, c'è la musica di Ferrandina. E infine spazio anche qui allo sport con il calcio di Lega Pro, Matera a Como verso il sold out, già venduti 5.800 biglietti e Diop dice gioco per il gol. Bene ed è tutto per questa edizione, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione della nuova TV alle 10 con il TG Flash. Per il momento grazie per la cortesia e attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.